scusami allora questo com'è che si chiama questa è una trappola per cimici che in sostanza è fatta da questi due pezzettini di plastica neri io sono intanto invaso da cimici che questa è cimici asiatica giusto che questi pezzettini qua contengono un attrattivo feromone che le avvicina dopodiché vengono intrappolate rimangono appiccicato cos'è un foglio di colla e non si riescono più a muove il problema è che questo questo affare le attrae date quante questo in la collezione di queste cimici nel giro di 24 ore meno meno di 24 ore qua sono una e mezza del pomeriggio dalle tre del pomeriggio di ieri all'una e mezza in 22 ore sono state attratte una cinquantina di cimici sono due lati 50 e 50 queste guarda come si avvicinano questa è una roba incredibile nord italia è invaso dalle cimici asiatiche e il ferro perché il ferro le sta no ma incredibile quante ce ne sono quante ce ne sono ma non ho mai visto così tante cimici tutte assieme no ma ragazzi è incredibile è incredibile grazie grazie grazie